Buongiorno da Annes, campionato CCST, tredicesima giornata, oggi 2 aprile 2017. E allora le formazioni che stanno per scendere in campo al CCST Stadium per l'Atletico, con il numero 1 a Lioto, il 2 Bertè, il 3 Russo, il 4 Arricò, il 5 Formica, il 6 Milazzo, il 7 Irrera, l'8 Cicceri, il 9 Marco Isgro, 10 Sciacchitano e 11 Arrigo. Per la Vigor, con il numero 1 Russo, il 2 Trazzi, il 3 Visalli, il 4 Milazzo, il 5 Italiano, il 6 Stagno, il 7 Sgro Giuseppe, l'8 Cernuto, il 9 Lamacchia, il 10 Lamalfa e 11 Tato. Risalli, Cicceri, Marco Isgro, se ne va Marco Isgro, poi punta in mezzo a 2, attenzione, Marco, 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 ancora Marco. Il primo gol di Marco, 1 a 0, in vantaggio subito l'Atletico, Marco Isgro. Il lancio di Arrigo per Marco. Il passaggio per Marco, non è fuori gioco, non è fuori gioco. Goal, 2 a 0. Marco Isgro, ancora goal. 2 a 0. 2 a 0. Il terzo gol di Marco Isgro, 3 a 0. Il tempo minaccia pioggia, cattivo tempo ma è pomeriggio. Tanto il colpo di testa e c'è il gol di Lamacchia, 3 a 1. Sul tiro di Trazzi, ancora Trazzi. Il colpo di testa ravvicinato di Stagno, 3 a 2. La macchia le prese con Santino Avion. Il gol di Lamacchia, 3 a 3 sul colpo di Riccardo, risultato 3 a 3. Arrigo, e gol, 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 Arrigo, 4 a 3. Finisce qua allora con la vittoria dell'Atletico, 4 a 3. Tripletta di Marco Isgro per l'Atletica. Per la Vigor, 2 gol di Lamacchia e 1 di Stagno. Abbiamo così concluso un bye bye. Nate se ti citano e salve le prossime puntatissime.